Ciao a tutti e benvenuti alla Robotica con EnBot, la serie di video tutorial della casa editrice e l'app seditori che propone tante attività per l'uso di EnBot nell'ambito educativo. Dopo aver scaricato la versione 5.2 di EnBlock, apriamo l'app. L'interfaccia è molto simile a quella di Scratch 3.0. Come sempre, in EnBlock ritroviamo come personaggio guida il Panda, presente all'avvio del programma nello stage posizionato sulla sinistra. Nella parte alta del software è presente una fascia blu con delle sezioni, alcune delle quali già presenti in Scratch 3.0 e nella versione precedente di EnBlock. Una novità è sicuramente l'area personale online, alla quale si può accedere cliccando sull'icona che è situata in alto a destra ed effettuando la registrazione. Una volta effettuato l'accesso, nella sezione online è possibile salvare i propri progetti e partecipare alla community. In questo modo tutti i progetti realizzati saranno sempre raggiungibili. Per accedere ai propri progetti sarà sufficiente cliccare sull'icona ed accedere alla sezione I miei progetti. Sulla sinistra troviamo l'icona del mappamondo, la quale ci permette di impostare la lingua in cui preferiamo visualizzare l'ambiente. La sezione File consente di creare un nuovo progetto, di aprire un progetto che abbiamo salvato nell'area personale online, di salvare il progetto che abbiamo realizzato nell'area online, di aprire un progetto presente sul proprio pc o di salvarlo sul pc ed infine è possibile condividere il progetto realizzato nella community. La sezione Modifica consente di applicare la modalità Turbo per velocizzare l'esecuzione del programma e di eliminare la visualizzazione dello stage. Nel box Area titolo è possibile inserire direttamente il nome del progetto che stiamo realizzando. Il pulsante Salva permette il salvataggio veloce del progetto. Pubblica, invece, consente di inserire il progetto nell'area personale. Ovviamente prima bisognerà avere attivato un account e avere effettuato l'accesso. Sulla destra troviamo la sezione Competizione che permette di collegarsi alla pagina online legata alle competizioni di robotica organizzate dalla Makeblock. La voce Tutorial, invece, consente di rintracciare un collegamento alla guida per l'utente online e una serie di esempi di attività base già svolte che permettono di apprendere le funzionalità base dell'applicazione. La sezione Feedback permette di inviare suggerimenti direttamente agli sviluppatori del software. Infine, cliccando sull'icona dei tre puntini sospensivi, è possibile controllare eventuali aggiornamenti del software, informazioni sulla versione in uso e accedere all'area per collaborare con gli sviluppatori. Come nel Block 3.0, anche nella versione 5.2 abbiamo quattro aree. L'area evidenziata in verde rappresenta lo stage, nel quale visualizziamo gli sprite, al di fuori del quale troviamo le icone che gestiscono la grandezza. Inoltre, sono presenti come sempre l'icona rossa di Stop e quella verde, che in alcuni casi viene adoperata per l'attivazione dei programmi realizzati. Le maggiori novità le rintracciamo nell'area al di sotto dello stage, evidenziata in viola, la quale è suddivisa in tre sezioni. La sezione Dispositivi è a sua volta costituita da due colonne. La prima, sulla sinistra, mostra quale dispositivo andremo a programmare. Tramite il tasto Aggiungi, si accede alla libreria dei dispositivi compatibili con il software, all'interno del quale è possibile selezionare il robot che desideriamo programmare. Nel nostro caso, sceglieremo InBot. Sarà sufficiente selezionare il robot ed in seguito cliccare sulla stelletta per impostare il dispositivo come predefinito. Alla fine, sarà sufficiente cliccare su OK, per poterlo inserire all'interno dei dispositivi da adoperare. La seconda colonna, invece, ci fornisce le informazioni essenziali sullo stato di collegamento del robot con il software. Per fare in modo che, una volta realizzato il programma, questo venga letto dalla scheda elettronica, è necessario che esista un collegamento tra il robot ed EnBlock. Come sappiamo, nel caso di EnBot esistono tre modalità di collegamento, tramite cavo USB, attraverso Bluetooth 4.0 e in modalità wireless 2.4G. Nella parte bassa della sezione, sono presenti due pulsanti, Carica file e Dal vivo. La modalità Dal vivo consente, una volta creato il collegamento, di attivare il programma e visualizzare in tempo reale la sua eseguzione, generalmente usato per il collegamento Bluetooth o wireless. Il pulsante Carica file, invece, adoperato essenzialmente per la connessione con cavo USB, consente di caricare il programma direttamente all'interno della scheda elettronica. Proviamo ad effettuare il collegamento tramite la penna Wireless Serial 2.4G. Selezioniamo il pulsante Dal vivo, inseriamo la penna all'interno della porta USB libera e clicchiamo sulla voce Collega. Si aprirà dunque una finestra all'interno della quale sarà possibile selezionare la modalità di collegamento nella parte alta. Nel nostro caso, selezioneremo 2.4G. Dopo il riconoscimento automatico del dispositivo, è sufficiente cliccare su Connessione. Se la connessione è andata a buon fine, potremo visualizzare nuovamente nella sezione Dispositivo la voce Dispositivo connesso. Per scollegare il dispositivo sarà sufficiente selezionare il tasto Disconnetti. Per effettuare il collegamento tramite cavo USB, sarà necessario prima di tutto accendere M-Bot ed in seguito collegare il cavo al PC. Generalmente, questo tipo di collegamento è pensato per caricare il programma realizzato direttamente all'interno della scheda M-Core. Dunque, si seleziona la voce Carica file ed in seguito si clicca sul pulsante Collega. Nella finestra viene individuata automaticamente la porta di collegamento ed è sufficiente selezionare la voce Connessione. Se la connessione è andata a buon fine, nella colonna di destra della sezione Dispositivi, comparirà la voce Carica file. Una volta conclusa l'eventuale programmazione, sarà sufficiente cliccare sulla voce Carica per poter caricare il programma direttamente su M-Bot. Invece, per poter eliminare il programma caricato su M-Bot e quindi ritornare alle impostazioni di fabbrica, sarà sufficiente cliccare su Impostazioni, Aggiornamento firmware e nella sezione Versione selezionare Firmware di fabbrica. Infine, cliccare su Aggiornamenti. Sempre nell'area viola troviamo la sezione Costumi. Infatti, a differenza della precedente versione di M-Block, l'area che gestisce il robot e quella che invece gestisce gli sprite viene separata. In questa sezione è possibile inserire degli sprite tramite il tasto Aggiungi, che permette l'apertura di una finestra nella quale possiamo decidere di selezionare uno sprite presente all'interno della libreria, caricarne uno presente all'interno del nostro PC oppure accedere all'editor per realizzarne uno nuovo. A differenza di Scratch, però, gli sprite presenti in libreria non sono tutti dotati di altri costumi, ma selezionando il tasto Costumi è possibile accedere all'editor grafico per realizzarne di nuovi. Infine, tramite il tasto Suoni è possibile accedere alla libreria dei suoni, caricare un audio presente sul nostro dispositivo oppure registrarne uno. Tutto questo cliccando la voce Aggiungere suono. Infine, troviamo la sezione Sfondo, che ha la stessa modalità di funzionamento vista per costumi. L'unica variazione sta nel fatto che qui si va a selezionare uno sfondo che verrà inserito nello stage. È sempre presente una libreria, ma è possibile anche caricare un file da PC o realizzare uno sfondo personalizzato. Ritorniamo poi alla sezione Dispositivi. Nella colonna centrale, evidenziata di giallo, a differenza della versione precedente di eBlock in cui erano presenti sia i blocchi di programmazione degli sprite che quelli per la gestione di eBot, i blocchi presenti nelle cartelle visualizzate cambiano a seconda se viene selezionata la sezione Dispositivi oppure la sezione Costumi. Infatti, in questo caso possiamo visualizzare i blocchi per programmare eBot, mentre accedendo alla sezione Costumi possiamo visualizzare i blocchi per la gestione degli sprite. Per quanto riguarda le colorazioni e le categorie associate alla programmazione di eBot, queste sono quasi identiche a quelle presenti in Scratch, a differenza di Movimento, che prende il nome di Azione, e di Suono, che prende il nome di Luce e Suono. Infine, l'area a destra, evidenziata di rosso, rappresenta anche in questo caso l'area degli script, dove verranno trascinati e collegati tra loro i blocchi di programmazione. A differenza di Scratch, che consente di adoperare un unico linguaggio di programmazione, ovvero la programmazione visuale ai blocchi, in questa versione di eBlock abbiamo ulteriori possibilità. Nell'ambito della programmazione dei dispositivi come eBot, oltre ai blocchi di programmazione, è possibile accedere all'IDE, ovvero all'ambiente di sviluppo integrato di Arduino, all'interno del quale si adopera il linguaggio CC++. Per quanto riguarda la programmazione degli sprite, invece, ai blocchi di programmazione si affianca alla programmazione in Payton. La nostra attività finisce qui. Un saluto a tutti e arrivederci al prossimo videotutorial.